Siamo qui nel centro tecnico di SEAT, il luogo dove costruiamo i nostri veicoli con vera passione per la perfezione. Mi trovo ora in un luogo molto speciale all'interno del centro tecnico di SEAT perché si vede lo stabilimento di Marturelli, dove presto si comincerà a fabbricare la nuova SEAT Ibiza Cupra. Cupra è sinonimo di eccellente comportamento dinamico, avanzata tecnologia ed imponente ed esclusivo design. Adesso con una potenza ancora maggiore e miglior comportamento dinamico, per un piacere di guida in qualunque situazione. Lo sportivo design esterno e gli interni riprogettati con un nuovo cruscotto e tecnologia Full Link rendono la SEAT Ibiza Cupra un modello davvero vincente. Ibiza Cupra è tecnologia da godere e naturalmente è molto divertente da guidare. Vediamo ora le novità che sfoggia la nuova SEAT Ibiza Cupra. Cupra è la nostra icona di design. Paraurti anteriore molto sportivo, prese d'aria frontali, cerchioni disponibili in nero brillante, tubo di scarico centrale e ampio diffusore. E quando accediamo all'interno, continua ad essere una Cupra. Finiture in nero brillante con accenti di bianco, carattere sportivo e un livello di qualità superiore nei tessuti e nei dettagli. In quanto al motore, la nuova SEAT Ibiza Cupra monta un 1.8 TSI di terza generazione che sviluppa 192 cavalli di potenza, da 4.300 a 6.200 giri al minuto e una coppia di 320 Nm costante e lineare tra 1.450 e 4.200 giri al minuto. Questo suppone un incremento di 12 cavalli di potenza e di 70 Nm rispetto alla versione anteriore. Il motore incorpora un innovativo sistema di refrigerazione, doppio sistema di iniezione MPI-FSI, un condotto di scarico integrato nella testata e un sistema di sovralimentazione regolato elettricamente. Questo motore, ora in combinazione con un cambio manuale a sei rapporti, permette alla nuova SEAT Ibiza Cupra di ottenere fantastiche prestazioni. Il nuovo motore e il cambio a sei rapporti permettono alla nuova Ibiza Cupra di accelerare in soli 6,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 235 km orari. Il marchio Cupra non garantisce solo ottime prestazioni. Il massimo piacere di guida è assicurato grazie al differenziale autobloccante elettronico XDS, impianto frenante altamente prestazionale, sospensioni e risposta dello sterzo regolabili e specialmente grazie al sistema Cupra Drive Profile che permette di definire e regolare le sospensioni in funzione delle necessità. Da una guida molto confortevole alla massima esperienza di guida sportiva. La nuova SEAT Ibiza Cupra è una combinazione perfetta di design, tecnologia e un eccellente comportamento dinamico e precisione. Nella nuova Ibiza Cupra abbiamo applicato la formula vincente della Leon per conseguire un'offerta più equilibrata, più sportività e un maggior livello di comfort, migliori prestazioni con un minor consumo, maggior piacere al momento di guidare con un prezzo più accessibile e logicamente molta più qualità e funzionalità. Ora che conosciamo tutte le novità, è il momento di mettersi alla guida della nuova SEAT Ibiza Cupra. Buon divertimento! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!